Ma che bello, si riparte con l'orto e lo stiamo facendo come fareste anche voi, cioè stiamo utilizzando piantine per l'obbistica, stiamo utilizzando impianti di irrigazione vecchissimi, ci sono tutti i vari problemi, quindi le formiche, le piante da potare, quelle non potate da chissà quanto, l'irrigazione e la fertilizzazione, quindi se vi interessa questa iniziativa seguite il canale, vi invito ovviamente ad iscrivervi e andiamo a vedere come stiamo agendo nel dettaglio, ovviamente in questo video vedremo nelle prime fasi che cosa stiamo facendo e abbiamo già fatto insomma, visto che è da un po' che abbiamo iniziato con il nostro piccolo grande orto. Bentornati dal vostro produttore di fiducia, come sapete sono Gianluca e ci occupiamo qui nella nostra azienda principalmente di coltivazione di pomodori in serra, va bene, invernale. Nel periodo estivo ci dilettiamo un po' con il pieno campo, più che altro è per hobby noi diciamo, però si possono vedere tante cose interessanti e magari andiamo a mangiare un po' di verdure fresche anche noi in estate. Quindi dicevo, ho già fatto vedere un po' quello che abbiamo fatto nell'orto, dall'inizio proprio dal trapianto, nella serie doppi e diretti, quindi vi consiglio di andare a guardare le playlist, ce ne sono tantissime interessanti, infatti c'è anche quella dedicata all'orto, quella al pomodoro nell'orto, la coltivazione di cavolfiore e via discorrendo. Quindi, riassumendo rapidamente, partiamo dall'inizio ovviamente, niente preparazione di base, perché lo abbiamo fatto già la scorsa estate, ok, quindi abbiamo fatto la letamazione, l'ho fatto vedere, abbondante, parliamo di 10-12 metri cubi per mille metri quadrati di letame maturo bovino, quindi ogni due anni va benissimo. Poi, l'unica cosa, quando abbiamo lavorato il terreno e preparato le buche per il trapianto, che è una pratica che ho consigliato molte volte, abbiamo messo i nostri famosi tannini di legno, che proteggeranno all'inizio la pianta e faranno anche un po' da, non solo quindi da corroborante, ma anche un po' da concime, poi si può intervenire in diversi modi ovviamente, noi per esperienza andiamo a concimare dopo una settimana circa, dalla messa a dimora, con pacciamatura, come vedrete dalle immagini, perché non dobbiamo stressare la pianta, facciamola ambientare, non diamo troppa acqua, né troppo poca, come sapete il discorso dell'irrigazione non è poi così semplice, bisogna un po' regolarsi in base alle condizioni climatiche, e ne ho parlato in diversi video, voi andate a guardare in descrizione, troverete link a video molto utili. Le nostre piante stanno crescendo, le nostre povere piantine che hanno sofferto molto alcuni giorni di panico, dicevo in un altro video, per un caldo un po' anomalo, in un periodo diciamo un po' sopra la media, e poi hanno sofferto diversi giorni di vento a intervalli, che qui da noi è una piaga come sapete, se seguite, sempre là siamo, quindi iscrivetevi, andiamo a vedere un po' cosa fare all'inizio, ad esempio melanzana e peperone, che sono un'accoppiata vincente se vogliamo, perché non solo si possono coltivare benissimo insieme, ma sono insomma molto graditi dalla maggior parte delle persone, si possono anche cucinare i frutti di queste piante, si possono anche utilizzare in cucina insieme, e quindi si coltivano alla grande. Bene, quando le piante iniziano a crescere un po', bisogna andare a mettere mano, ecco, parliamo così, con i termini tecnici, quelli della vita reale. Sì, perché quando la pianta raggiunge una certa altezza, inizia a avere tante femminelle, sia la melanzana, quindi la pianta della melanzana, sia il peperone, se non gli diamo una forma, diciamo no, se non gli diamo una forma, non avremo un raccolto, diciamo, dei migliori, va bene? Quindi bisogna sfemminellare e defogliare in alcuni casi. La regola fondamentale è andare a ripulire un po' la parte bassa delle piante, per non creare il cespuglio, visto che noi vogliamo fare un allevamento, ecco, come sempre si dice, così con questi nostri termini bellissimi, un allevamento della coltivazione con supporto, che poi vedremo di preciso più avanti, non faremo proprio un vero e proprio supporto, ma non vi voglio anticipare troppe cose. Comunque sia, ripulendo così, quindi sfemminellando e defogliando la parte bassa, andiamo a capire, e in molti pensiamo, ma perché devo andare a togliere magari le femminelle piene di fioriture, perché queste foglie belle? Intanto c'è modo e modo di fare, ad esempio nella melanzana magari non è una priorità assoluta andare a togliere le prime foglie, anche se toccano terra, quindi volendo ci potrebbero danneggiare, nel senso che le malattie possono arrivare più facilmente al fusto della nostra pianta, quindi in generale accolpire e fare ammalare la nostra pianta, però in una prima fase le possiamo lasciare, magari le togliamo un po' più avanti, quindi facciamo crescere, ovviamente le foglie danno forza alle nostre piante, però dobbiamo sempre vedere cosa conviene, ecco, sicuramente proprio all'inizio quando la pianta comere 20-30 cm si possono lasciare queste foglie che daranno appunto, alimenteranno la crescita delle nostre piante, invece le femminelle no, quelle basse saranno solo dei mangioni, noi le chiamiamo, quindi toglieranno invece energie alla parte apicale, quella principale della nostra pianta, meglio toglierle, va bene, non pensate che sia un'operazione così difficile, scusate se parlo così perché so che ci sono in molti che fanno ricerche appunto che hanno poca esperienza e cercano proprio di sapere, di venire a conoscenza di queste operazioni così magari semplici per chi ha più esperienza. Allora andare a sfemminellare qualsiasi tipo di pianta dell'orto quando è piccola si può fare semplicemente con le dita, non c'è bisogno di andare, sapete che io dico così perché ci sono video assurdi che parlano di questo argomento, quindi la potatura del pomodoro piuttosto che è della melanzana con attrezzi esageratamente grossi e soprattutto costosi di cui non c'è bisogno. Va bene, quindi andiamo a sfemminellare semplicemente strattonando, staccando queste femminelle e anzi verrà una ferita molto in superficie, quindi molto vicina, non lasceremo i cosiddetti monconi che anche quelli sono molto pericolosi perché possono andare ad ammuffire e non vabbè non andiamo a parlare di tutto quello che potrebbe succedere perché non finiamo più. Stavo dicendo per quanto riguarda la defogliazione, nella melanzana lasciamo queste foglie, poi magari quando la pianta raggiunge un'altezza superiore, ad esempio mezzo metro o 70 centimetri ritorniamo nella parte bassa e andiamo a togliere queste famose foglie che toccano a terra, invece nel peperone già dall'inizio è meglio togliere anche le foglioline basse, dobbiamo fare con un piccolo alberello così la fruttificazione la spostiamo più in alto e ci darà diversi vantaggi, già uno fra tutti il fatto che il peperone nella maggior parte dei casi si va a ficcare nella terra, detto così, magari umida, magari ci sono insettini, quindi molti frutti si potrebbero rovinare semplicemente per il contatto con il terreno, ecco, senza andare a scavare molto in fondo in questa questione, quindi il peperone è consigliabile andare a ripulirlo, ecco, sempre come si dice, perché si fa così, cioè non c'è molto da dire, scusate io ogni volta che faccio un video penso a tutte le polemiche per qualsiasi cosa anche banale, comunque sia, continuiamo il discorso. Il peperoncino è facile da capire, ovviamente va trattato più o meno come il peperone, anche se è leggermente diverso, ce ne sono tantissime varietà di ogni singolo ortaggio, quindi non possiamo approfondire molto sotto questo punto di vista, però tendenzialmente, anche se le varietà sono abbastanza diverse fra di loro, si trattano, ecco, si coltivano bene o male allo stesso modo, quindi l'allevamento, la gestione della pianta bene o male è uguale. Poi andiamo a vedere quello che abbiamo ovviamente noi nel nostro orto, la zucca, noi abbiamo la zucca, quella provenzale, giusto, quindi per parlare di varietà, bene o male quello che dirò vale per tutti i tipi di zucche, le dobbiamo trapiantare e ho scontato che dobbiamo fare dei trattamenti preventivi sia fogliari che anche radicali volendo e andiamo a un passo alla volta. Quando andiamo a trapiantare le zucche dobbiamo anche qui aspettare qualche giorno prima di andare a fertilicare, magari facciamo qualche trattamento fogliare così come si fa per gli altri ortaggi e sempre dopo qualche giorno sarebbe importante andare a fare un trattamento radicale, non congimazione, capite? Quindi un trattamento preventivo per le malattie. Voi sapete che noi utilizziamo un metodo di coltivazione particolare e l'ho descritto in diversi video che troverete in descrizione. Perché si fanno dei trattamenti radicali? Perché nelle prime fasi, oltre al fatto che abbiamo messo i tannini di legno che già che ci siamo nel discorso, sono degli ottimi preventivi sia per le malattie fungine sia per i nematodi che sono le principali cause della morte di alcune piantine ad esempio nei primi giorni. Quindi è importante entro una settimana andare a fare questi trattamenti che di solito sono a base di estratti, di concentrati insomma vegetali come il propoli, come l'alga marina, quindi tutte sostanze che vanno a stimolare, a fortificare la pianta in generale, partendo dalle radici in questo caso. E dicevo è importante perché dando questa spinta e questa barriera protettiva dall'inizio, la pianta se partirà bene, insomma chi ben comincia a metà dell'opera si dice, partendo bene e fortificandosi svilupperà anche nel tempo e se noi continueremo ad utilizzare queste sostanze così fatte, che hanno queste caratteristiche, la pianta aumenterà anche la capacità di combattere, di autodifendersi insomma dalle avversità in generale, perché ci sono le malattie, ci sono gli insetti che portano le malattie, gli insetti che si mangiano o la pianta o i frutti o le foglie o tutto, e quindi ci sono tante cose malvagie contro di noi, come dicevo anche quello in un altro video, abbiamo tutto contro noi coltivatori, però dobbiamo agire di conseguenza. Bene, la zucca è una coltivazione che a me piace tanto ed è fra le cucurbitacei che non si tocca, ecco che non c'è bisogno di mettere mano, quindi noi la andiamo a trapiantare, la concimiamo, facciamo i trattamenti e se tutto va bene, anche c'è da vedere la questione climatica che ultimamente con questo clima pazzerello è molto fuori dalla norma, ci sono diversi problemi, ecco mi riferisco principalmente alla questione dell'allegagione nelle prime fasi di crescita delle nostre piante, però se tutto va, non dico bene, ma nella media non abbiamo bisogno di intervenire, quindi non c'è bisogno di sfemminellare, non c'è bisogno di cimare, in molti, perché lo sto dicendo, in molti sono fissati che questa zucca si deve sfemminellare, si deve cimare per forza, o addirittura altre pratiche ancora più inutili, vabbè che consigliano altri, ahimè, qui anche su YouTube, ma che ci possiamo fare? Ecco parliamo di un'altra coltivazione interessante che stiamo facendo, stiamo facendo delle angurie, ecco abbiamo la mini anguria, normale mini anguria, in realtà non è normalissima, è una varietà che mi hanno dato in prova, quindi è un ibrido, ma ne parleremo più avanti anche di quello, è inutile pubblicizzare una cosa che ancora è la prima volta che sto sperimentando, e poi abbiamo messo la midi anguria senza semi, quindi a frutto medio senza seme, qual è la cosa un po' particolare di questo tipo di coltivazione? È che le angurie senza semi hanno bisogno del fiore maschio, di un'altra pianta di anguria che deve impollinare il suo fiore femmina, se no non ci sarà fruttificazione, in poche parole, e per fare avvenire tutto questo processo, insomma per far andare tutto liscio, si devono mettere le piante, quelle fertili, diciamo quelle normali, si devono distribuire in maniera omogenea nel campo, nell'orto, e come si fa? Sul filare ogni tre piante di senza semi si mette una pianta normale, va, diciamo, e in più tra filare e filare l'ordine deve essere sfalsato, così da permettere, insomma, quando ci saranno gli impollinatori, le api, insomma, quando le api lavoreranno nel nostro campo, ecco avverrà questo miracolo della natura. A proposito di api ho pure installato un piccolo condominio di bombi nel mio orto, una cosa bellissima, ho preso tutti i cartoni, quindi le colonie di bombi che erano, inizialmente servivano per l'impollinazione in serra, immaginate un po' in serra in inverno, non ci sono ovviamente i pollinatori, quindi li andiamo a mettere noi, e poi nei periodi caldi meglio toglierli dalle serre, e quest'anno ho fatto una zona residenziale per bombi, vediamo che cosa succederà, magari un giorno avrò un allevamento di bombi e ve li potrò anche vedere, insomma, bellissimo. Stavo dicendo, anche l'anguria è un'altra coltivazione che mi piace tantissimo, perché non va toccata, non si tocca, è bellissimo. La trapianti, fai tutta la prevenzione, la affermazione, i trattamenti fogliari, i preventivi per le malattie, tutto quello che ci vuole, però non si va a toccare, non si va a sfemminellare, non si va a defogliare, ovviamente ci sono le eccezioni, sia per l'anguria, sia per la zucca, e vabbè, le eccezioni sono tantissime, comunque sia, a un certo punto, se ci sono alcune condizioni particolari, si possono andare, ecco, si deve intervenire, maggiormente l'intervento quello più classico, fra quelli appunto di emergenza, è la cimatura, vabbè, si vanno a cimare quando ci sono problemi di allegagione, per diversi motivi, ora io, magari qualcuno già l'ho elencato, rapidamente possiamo dire che i problemi grossi di allegagione in questi tipi di cucurbitacei, quindi quelli che fanno il frutto che è ingrossa e ha, contiene fruttosio, come il melone, l'anguria, il problema è che vogliono un po' di stress idrico per allegare bene, se no la pianta, ecco, immaginate le zucche sono delle piante, sono delle piante mangione, se noi abbiamo fatto una buona preparazione di base, quindi molto ricca organicamente, e diamo tanta acqua, magari piove, penseranno alla foglia, penseranno a crescere, a fare vegetazione, e trascureranno la fruttificazione, quindi in poche parole, in questa fase delicata c'è anche un momento, o lo dobbiamo, ecco, il nostro intervento, la nostra arte deve essere quella di determinare bene o male, quando andare a creare questa sofferenza, il momento giusto, a cosa mi riferisco, ad esempio a pieno campo in estate, poi andremo sicuramente a beccare il caldo, quello vero, quello serio, quello intenso, che può danneggiare le coltivazioni sotto diversi punti di vista, quindi sicuramente noi all'inizio dobbiamo avere una bella pianta, dobbiamo fare la pianta, noi diciamo, nel senso che dobbiamo pensare ad avere una buona vegetazione, a livello soprattutto fogliare, che sarà poi la futura ombra per i nostri frutti, però a un certo punto dobbiamo trattenere la nostra coltivazione, principalmente dando meno irrigazione, con alcuni tipi di concimi che appunto tendono un po' a non fare crescere troppo la pianta, piuttosto a farla inrobustire, ok? E così facendo la pianta allegherà bene, infatti in molti per esperienza anche sui vari gruppi, sui social, quindi andate a vedere anche quello, seguite anche, produciamo naturalmente anche su tutti i canali, una domanda comune perché il melone non fruttifica, perché non allegano le zucche e questo è il motivo, se non andiamo a creare questo piccolo stress, nella fase giusta ovviamente non è che andiamo a trapiantare le nostre piantine e le lasciamo a secco, prima le dobbiamo formare bene, devono essere abbastanza forti, robuste, noi non dobbiamo pensare che più grande è la pianta meglio è, no, perché le piante così e le cucurbitaci soprattutto sono molto acquose, non sempre quando sono molto grandi vuol dire che stanno benissimo, anzi se sono troppo, sono cresciute troppo rapidamente, poi possono anche crollare rapidamente, va bene, comunque questo è un discorso un po' da, dovremmo dedicare un video specifico a questa cosa, vale per molti cucurbitaci e ci sono l'altra faccia della medaglia, invece ci sono quei cucurbitaci come lo zucchino e il cetriolo che invece vogliono tanta acqua, acqua e concime oddio, l'acqua tanta si concime, tanto no, perché poi troppo non lo assorbiranno, però una, diciamo una fertilizzazione regolare, magari con dosaggi bassi ma frequente, quindi ad esempio anche due volte settimana e anche a livello fogliare, perché? Perché vogliono una spinta continua, non è una cosa, una questione di massa, di quantità di concime che andiamo ad andare, ma è una questione di continuità, quindi la pianta essendo così con un ciclo particolare, produttivo, è vitale, proprio, è rapido, è molto legato appunto alla circolazione idrica all'interno della pianta, bisogna mantenere in equilibrio così, ecco, se invece al contrario, se ha un po' di stress per mancanza un po' di acqua o per ad esempio forte calore, tante cose messe insieme, queste questo tipo di piante fruttificheranno male, proprio già le fioriture potrebbe essere povere, quindi non fertili, diciamo, ecco, e questo è un altro discorso che andrebbe approfondito nello specifico, magari a fine o nel mezzo della campagna qui a Piano Campo potremmo andare a fare dei video specifici per approfondire questi argomenti che interessano in tanti effettivamente e sono un problema poi per molti inesperti che vanno a fare tanto lavoro per preparare l'orticello e alla fine il raccolto è povero. Bene, spero di essere riuscito a fare un quadro della situazione e di quello che voglio fare, quindi ovviamente mi interessa il vostro parere, fate le domande che più ritenete opportune, spero di riuscire a rispondere nel migliore dei modi, considerate che sono sempre e solo il vostro modestissimo produttore di fiducia, cioè niente di più e niente di meno. E voglio ringraziare ovviamente non solo chi segue il canale da tanto tempo, condivide i video, commenta appunto, mette mi piace, voglio ringraziare di cuore gli abbonati che ci stiamo divertendo un po' a fare non solo dei video molto così amichevoli, ma anche dei video di risposta che io li trovo molto interessanti, quindi magari io faccio un video così un po' scherzoso per fare vedere quello che sto facendo nelle varie coltivazioni e poi nasce la domanda da cui per risposta c'è il video e poi altre domande e quindi c'è questa catena bellissima dai. E magari si vanno a approfondire con leggerezza cose che sono un po' difficili da trattare tecnicamente, quindi perché l'esperienza è una cosa, la tecnica e la scienza è un'altra cosa, anche se viaggiano in maniera parallela. Va bene, dai, io vi lascio, scusate per il sequestro di persona, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguiamo l'orto, diamoci dentro, diamoci da fare e andiamo a capire soprattutto le cose, perché accadono, ecco, perché questa pianta sta un po' male, perché questa pianta fa pochi frutti o perché le formiche ce l'hanno solo con noi, no, vabbè, le formiche ce l'hanno con tutti.